Guardi, quando sono entrata nella cameretta lì a Monza dove c'era lei, ero ancora sull'uscita della porta e lei mi ha detto sapessi, Gino, cosa vuol dire morire e lasciare quattro bambini piccoli? Subito si è sfogata a dirmi questo. Poi sono sempre stata vicina. Quando un giorno mi dice, sto tanto male, infatti avevo non so se 40, 41 in febbre, mi dice, chiamami prete. Io vado a cercare prete, stava già vestito per celebrare la messa. Dico, celebrare la messa per Gianna, poi vengo a su. E torno da Gianna, le do a baciare il mio crucifisso con indulgenza penale. L'essere stretto al cuore. E' stata un po' di minuti così e poi mi dice, sapessi, Gino, quale consolazione il Signore mi ha dato se non ci fosse lui in certi momenti. Grazie. 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 Grazie.